Andare veloce vuol dire misurarsi con la paura, vuol dire misurarti con qualcosa che non conosci, ma che ti attira. È una questione di piacere, di piacere della sfida. Il confronto è solo con noi stessi. Io quando sono davanti al semaforo che sta per scattare, o quando sono dietro al sipario che sta per aprirsi, io sento che sta per cominciare un momento che devo investire di tutta la mia concentrazione per arrivare dalla parte opposta, senza fermarmi mai. Io ho scelto di raccontare a me stesso quanto bene voglio a mio padre attraverso l'utilizzo di un'auto da corsa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.